Neurodiversità e neurodivergenze sono parole complesse, concetti correlati che si riferiscono alla variazione naturale nel funzionamento neurologico degli esseri umani. Il cervello umano infatti funziona in modi diversi e tali differenze non dovrebbero essere patologizzate o stigmatizzate. Chi è neurodivergente può avere una condizione come l'autismo, il disturbo da deficit di attenzione o iperattività, la dislessia o la discalculia, differenze neurologiche che devono essere viste come parte normale della variabilità umana e proprio con questo obiettivo per creare neuroequità è nato il progetto Bellamente, presentato a Milano dall'Associazione Milano Positiva APS e dal fondatore di Neurosive, Tommaso Davi. Un'iniziativa che vuole parlare e sensibilizzare sul tema della neurodivergenza e delle neurodiversità, sulle opportunità che dipendono dalla neuroinclusione, quindi da includere queste diversità cognitive e sensoriali nella società e nelle organizzazioni, ma soprattutto per parlare e mettere al centro il valore dell'arte e delle arti e della musica come ponte fra queste diversità e la nostra società e strumento per creare equità all'interno delle nostre organizzazioni e del nostro sistema culturale e sociale. Il progetto Bellamente, che nasce dall'idea di Chiara Bisignani, attivista per i diritti delle persone con disabilità e Andrea Salvi, imprenditore neurodivergente, ha così lo scopo di approfondire il rapporto tra neurodivergenza e musica e come la musica può svolgere un ruolo cruciale nel supportare e arricchire l'esperienza delle persone neurodivergenti, migliorando il loro benessere, l'espressione personale e la comunicazione. Uniamo la musica alla neurodivergenza, cioè usiamo la musica come linguaggio per la neurodivergenza, perché la musica, essendo un linguaggio universale, in realtà è un messaggio molto forte e può avvicinare più facilmente le persone alla neurodiversità. Noi sappiamo la musica ad esempio per eccellenza è avere due dimensioni, la dimensione fisica della musica è quella di essere percepita attraverso le vibrazioni, la propagazione del suono, quindi entra in gioco come un elemento attivatore di tutto il cervello, di tutte le funzioni che percepiscono questi elementi e molto in maniera anche interessante entra la componente dell'attivazione delle emozioni.